Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it quest'oggi continueremo la lezione sospesa nello scorso video e continueremo a parlare delle transizioni e delle dissolvenze video in Adobe Premiere vedremo come definire la durata di una transizione, vedremo come posizionarla nel nostro punto di montaggio con precisione ed esploreremo soprattutto i vari tipi di dissolvenza presenti in Adobe Premiere prima però vi ricordo, come sempre, se avete voglia di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it sito dove, cliccando sopra alla voce corso Adobe Premiere, potrete accedere all'elenco completo dei video tutorial fatti fino ad ora se volete recuperare qualche argomento in particolare, ma soprattutto troverete gli argomenti che affronteremo nei prossimi mesi, sono tanti e lo dico subito, cambieranno, è un elenco in continuo divenire quindi a mano a mano che andremo avanti con le lezioni magari modificherò qualcosina però a grandi linee questi sono gli argomenti che affronteremo nei prossimi mesi se avete voglia, se volete fare domande, chiaramente oltre a commentare questo video potete scendere in fondo all'articolo dell'argomento che state trattando e trovate qui il campo commenti, se avete voglia di lasciare un commento, una domanda, una richiesta qualunque cosa ovviamente è ben gradita infine vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube così da non perdere nessun video, nessun tutorial di prossima uscita detto questo torniamo subito ad Adobe Premiere eccoci tornati in Adobe Premiere nella scorsa lezione abbiamo visto come applicare le transizioni in particolar modo abbiamo visto la dissolvenza abbiamo visto i tasti di scelta rapida per applicare con un colpo solo dalla vostra mano sinistra o dalla vostra mano destra la transizione nel punto di montaggio che volete oggi andremo un pochettino più nel dettaglio perché la scorsa volta abbiamo detto che per applicare una transizione è sufficiente o usare, cosa che raccomando, i tasti di scelta rapida da tastiera oppure trascinare la transizione sul punto di montaggio in cui volete applicarla però non abbiamo detto praticamente nulla del posizionamento della transizione quanto dura questa transizione? come fare per renderla più lenta, per accelerarla, per modificarla o per sistemarla un pochettino più in avanti o un pochettino più indietro? allora diciamo subito che per spostare una transizione spostarla un po' in avanti, spostarla un pochettino indietro è sufficiente cliccare sopra la linguettina qui della transizione con il tasto sinistro del mouse e muoverla vedete io ho anticipato un pochettino la transizione oppure porto in avanti e sposto un pochettino in avanti la transizione però detto questo non abbiamo modificato la durata vi anticipo che questa è una transizione che dura esattamente un secondo come lo so perché per impostazione predefinita di Adobe Premiere le transizioni video durano un secondo le transizioni audio non ricordo ma lo scopriamo subito perché intanto come si fa a modificare la durata predefinita di una transizione sia che si tratti di una dissolvenza sia che si tratti di uno zoom o quello che volete ecco se andate nel menu modifica e andate alla voce preferenze potrete scegliere in basso la voce timeline cliccando nella voce timeline avrete accesso a tante opzioni non le vedremo tutte oggi però guardate la prima opzione qual è la prima impostazione qual è durata predefinita transizioni video ed ecco che sono 25 fotogrammi ovvero ve lo ricordate 25 fotogrammi se avete impostato il progetto secondo lo standard italiano comunque europeo prevalente in Europa 25 secondi equivalgono a 25 frame equivalgono ad un secondo ok per curiosità andiamo a vedere quant'è la durata predefinita delle transizioni audio ecco qua un secondo uguale alle transizioni video quindi chiaramente questi sono dati che potete modificare a vostro piacimento e quando andrete ad impostare una transizione di default avrà queste durate però chiaramente a meno che voi non ammiate particolarmente una transizione che duri un tot numero di secondi ecco può essere utile modificarle a mano le durate di queste transizioni ecco come si modifica la durata di una transizione una volta applicata per esempio una volta applicata una transizione può essere modificata in due modi principali il primo è allungare o accorciare questa linguettina guardate se io vado con il mouse alla fine della transizione vedo che c'è una manopola rossa ok stessa cosa all'inizio cliccando con il tasto sinistro del mouse e trascinando vedete che io sto rallentando questa transizione perché sostanzialmente dura molti più secondi guardate questo è quello che esce fuori con una transizione di questa durata viceversa se io questa transizione la vado a rendere più corta per esempio così la transizione sarà molto molto più veloce olè ok spero sia chiaro disattivo magari l'audio perché mi rendo conto che magari può distrarre in questa fase però domanda se io volessi far durare questa transizione video esattamente 4 secondi non un secondo di più non un secondo di meno ecco allora quello che voi potreste fare sbagliando chiaramente è misurare la durata e cercare di adattare la linguettina alla durata che avete misurato ma non lo fate mai perché chiaramente come vi ripeto sempre quando lavorate in Premiere quando lavorate in generale in generale in qualunque software ma in particolare ad un software di montaggio la vostra regola principale è fare le cose bene bene nel minor tempo possibile ricordate questa regola fare le cose bene alla perfezione nel minor tempo possibile quindi per poter decidere quanto far durare questa transizione con precisione e in maniera velocissima basta fare doppio clic sopra la linguettina con il tasto sinistro del mouse oppure se non ve lo ricordate ma è abbastanza scontato tasto destro del mouse scegliere imposta durata della transizione il risultato è lo stesso quindi chiaramente consiglio il doppio clic vedete che questa finestrina che compare mi permette di digitare quanto voglio far durare la transizione in questo caso l'ho modificata dura un secondo e 15 frame ma io volevo far durare 4 secondi scriviamo 4 premo ok e la transizione adesso durerà esattamente 4 secondi state molto attenti state molto attenti per esempio la transizione qui potrei far durare anche un minuto chi me lo vieta ma dovete fare i conti con la durata effettiva della clip se io per esempio qui andasse a mettere ecco qua la durata della transizione un minuto e 4 secondi guardate cosa succede la transizione a un certo punto la linguettina viene tratteggiata che cosa vuol dire questo tratteggiamento questo tratteggiamento in altre parole significa che premiere non riesce non può far durare la transizione esattamente un minuto e 4 secondi perché manca il materiale a cui chiaramente applicarla vi faccio un esempio un pochettino più pratico vediamo se è così forse un pochettino più chiaro eccoci qui allora cosa ho fatto ho sostanzialmente rimosso le transizioni e le clip che non ci servivano che ci infastidivano così da concentrarci solo su queste due clip e sull'aggiunta di una transizione video allora qual era il problema che vi stavo dicendo? vi stavo dicendo che se voi volete aggiungere una transizione chiaramente dovete stare attenti al materiale originale che voi avete in questo caso cosa ho fatto? ho preso la prima clip della macchinetta del caffè esattamente nel punto finale ho preso l'altra clip chiaramente dove dopo arriverà la tazzina di caffè esattamente nel suo punto iniziale vedete? questi sono esattamente i primi secondi quindi sostanzialmente prima di questa clip non c'è niente ok? dopo questa clip non c'è più niente ok? ipotizziamo che io adesso voglia inserire qui una transizione video ok? seleziono il punto di montaggio CTRL D e c'è un messaggio di Premiere Premiere mi dice stai attento perché l'oggetto multimediale è insufficiente la transizione conterrà fotogrammi ripetuti che cosa vuol dire? sostanzialmente vuol dire che Premiere in questo caso prova a fare una transizione però non ha il materiale per dissolvere realmente la clip A e la clip B quindi sostanzialmente questa linea tratteggiata mi sta informando che Premiere si, mi applica la transizione ma sostanzialmente fermando l'ultimo fotogramma ok? e fermando il primo fotogramma in maniera tale da creare il materiale che in realtà non ho per mettere la transizione se questa fosse una una clip in movimento purtroppo ora non le ho da farvi vedere io vedrei sostanzialmente l'immagine che si bloccherebbe e rimarrebbe bloccata per tutta la durata della transizione perché quello che fa Premiere qui è ripetere i frame sostanzialmente blocca l'immagine della clip A e della clip B per inventarsi una transizione stessa cosa se queste due clip in totale durano pochi secondi ok? facciamo un esempio anzi vediamo quanto dura questa clip mi metto qui punto out punto i e vado a vedere questa clip che dura all'incirca due secondi e quindici fotogrammi ok? se io volessi applicare qui una transizione che duri non so quattro secondi vediamo Premiere come si comporta CTRL D e chiaramente questa durava un secondo è andato tutto bene dico a Premiere Premiere farmi durare questa transizione 5 secondi e Premiere chiaramente ci prova però sostanzialmente adatta la transizione alla durata massima che ha a disposizione quindi quando lavorate con le transizioni chiaramente state molto attenti al materiale che avete a vostra disposizione se io volessi controllare questa transizione in maniera ancora più precisa come posso fare? allora io vi ho insegnato qualche lezione fa che chiaramente tutti gli effetti applicati all'interno di Adobe Premiere tutti gli effetti possono essere controllati dal pannello controllo effetti ora chiaramente se cliccate sopra una clip vi ho già detto che trovate alcune 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 impostazioni alcuni alcuni parametri di default se però cliccate sopra la linguettina della dissolvenza troverete i parametri della dissolvenza ok? se al posto della dissolvenza c'era un'altra transizione potevate vedere potevate accedere ai parametri della transizione fantastico in questo caso c'è poco da lavorare nel senso chiaramente posso impostare la transizione esattamente al centro come in questo caso posso dire di impostare la transizione all'inizio del taglio come in questo caso oppure alla fine del taglio precedente ok? questo è molto comodo però se io per esempio utilizzassi altri tipi di transizioni facciamo un esempio vediamo la transizione scorrimento ok? la applico e ve la ricordate? non l'avevamo già vista l'altra volta se io vado a vedere le impostazioni del pannello di controllo del pannello di controllo effetti c'è qualcosa in più non molto a dir la verità però per esempio posso impostare un bordo ok? un bordo non so di 10 pixel magari un bordo di colore rosso così lo vediamo bene ecco qui quindi la mia transizione in questo caso avrà un bordino di colore di colore rosso posso ovviamente invertire la transizione cioè in questo caso non è la clip B a spostare la clip A ma è la clip A che sostanzialmente va via e lascia spazio alla clip B e tante altre impostazioni che eventualmente possono essere trovate qui nel pannello controllo effetti lo vedremo tra tante lezioni però è possibile chiaramente acquistare altre transizioni no? le transizioni che trovate all'interno di Premiere sono quelle di default e io vi consiglio sinceramente di stare molto attenti a giocare troppo con le transizioni usatele con parsimonia e se veramente servono se avete dubbi usate la dissolvenza però sappiate che esistono in commercio dei plugin per Premiere che vi permettono di inserire tantissimi altri tipi di transizioni e quando andrete ad utilizzare quei plugin e ve lo dico sono abbastanza costosi quindi ecco a meno che voi non abbiate esigenze particolari non ci lavorerete però se avete voglia insomma di avete modo di utilizzare quei plugin le impostazioni delle transizioni avanzate di quel plugin le troverete dentro al pannello chiaramente controllo effetti per adesso mi fermo qui grazie per avermi seguito commentate questo video se avete domande iscrivetevi al canale youtube troverete anche l'articolo della lezione di oggi in fondo c'è il campo per poter commentare se avete domande chiaramente fatele scrivete e cercherò di rispondere nel minor tempo possibile grazie ancora buona serata buona giornata buona nottata a seconda dell'orario in cui guardate questo video al prossimo tutorial ciao